Un giorno, oggi è una solennità, cioè un giorno importante per la Chiesa, si celebra la presentazione di Gesù al Tempio, cioè il Vangelo ci racconta questa cosa, che dopo che Gesù è nato, viene portato da Maria e Giuseppe al Tempio perché venisse riscattato, si dice così, attraverso questa celebrazione per cui venivano messi sull'altare, sacrificati due coppie di colombi o degli animali al posto del bambino, del primo genito, perché il primo genito secondo la legge di Mosè era sacro al Signore, cioè era per Dio, bisognava riscattarlo e un buon ebreo, un pio israelita, faceva anche questa cosa, San Giuseppe che era un pio israelita, decide con Maria di compiere questo gesto così importante, portano Gesù al Tempio e lo riscattano. Mentre fanno questo gesto, che in realtà non viene mai descritto nel Vangelo, questo andare al Tempio diventa occasione per la manifestazione di due personaggi interessantissimi, che sono Sant'Anna e San Simeone, che sono due personaggi, la profetessa e l'anziano, il saggio, che incontrano Gesù, Maria e Giuseppe, mentre vanno al Tempio e si mettono a manifestare a tutti i presenti la grandezza di questo bambino. Il particolare Simeone, questo anziano, che aspettava la venuta del Cristo, lo riconosce come tale in quel bambino e quindi in questa raffigurazione che vediamo in questa foto, vediamo proprio così che Maria con questo bimbo in fasce se lo stringe mentre Simeone sta per prenderlo, per toccare il Cristo, che è lì presente, che è lì che finalmente riesce a vedere, perché desiderava così tanto vedere l'inviato di Dio, che Dio gli aveva fatto proprio questa promessa, non saresti morto fino al giorno in cui avresti avresti visto il Cristo e così avviene. E allora vediamo proprio questo gesto così bello di Maria che fa, mostra la salvezza a Simeone. E qui il pensiero che mi viene, a volte ci dimentichiamo un po' di questa mamma che abbiamo in cielo, che è lì proprio per mostrarci la salvezza, per portarcela, un po' come ha fatto verso Simeone. Oggi chiediamogli proprio questo, attraverso le parole dell'Ave Maria che pregheremo, chiediamo proprio questo a Maria, di mostrarci la salvezza, di mostrarci il suo figlio, di farsi mediatrice di questo. E chiediamogli questo dono. Buona giornata! Grazie a tutti!